salve a tutti rispondo a michele che mi ha chiesto se le chizzi della target sono buone frecce michele sono buone frecce l'ho getto un sacco di volte quando me l'hanno chiesto sono frecce buone perché la target fa tutte buone frecce non fa frecce brutte la target fa anzi se tu hai la presa posteriore vanno benissimo io che l'ho presa anteriore a me non mi vanno per niente bene perché sono bilanciate totalmente dietro e non davanti nel centrale proprio spostato indietro il bilanciamento della freccia quindi se tu la prendi dietro sono buonissime le target poi rispondo a massimiliano che mi ha chiesto come ormai ho detto che garvin price come faccio a capire che garvin price è un giocatore costruito tecnicamente in confronto magari a tanti altri che hanno tipo van gervan che tecnicamente non è proprio perfetto ma è un mostro praticamente è molto facile basta vederlo come tira molto impostato nel senso che sta molto dritto sta molto posizionato tira la faccia in un modo molto corretto si vede che uno che almeno questo quello che penso magari non è così però quello che penso io a guardarlo sembra uno che si è messo lì e gli hanno detto la posizione era quella che il braccio doveva fare così che almeno questo ti dà l'impressione di essere uno preparato tecnicamente anche perché se faceva magari un altro sport prima nessuno mi ricordo del rugby mi pare è un atleta quindi si è preparato in maniera tecnica e ha portato la tecnica al numero le freccette la differenza fondamentale con uno che è van gervan a 12 anni si è messo lì ha cominciato a tirare ogni giorno ogni giorno ogni giorno ha preso il suo modo di tirare perché ognuno può tirare un po come i vari e magari prendere numeri incredibili la tecnica ti permette di essere più preciso possibile nel senso di essere più costante però uno che tira che ha magari talento perché van gervan se non avesse talento non credo sarebbe così forte in più ha imparato a tirare in quel modo che non è che sia proprio tutto sbagliato la forma è quella se vogliamo vedere uno tecnicamente molto bene gary anderson perché credo che non ho mai visto come giocava prima però che renda sono avuto la dartite a un certo punto della sua carriera e quindi penso che abbia risistemato e si è ritornato ad essere gary anderson usando molta tecnica però questo così è un piccolo pensiero che mi è venuto adesso magari non è così non l'ho mai visto giocare prima della dartite sarebbe andare a vedere come tirava prima per vedere se c'era una differenza sostanziale non è una cosa meglio una cosa peggio ognuno fa il suo percorso di vita e ognuno fa il suo percorso nel gioco ognuno non ci arriva in un modo non ci arriva nell'altro si vede solo che lui è uno che si è messo lì e poi ha cominciato a tirare i più giovani sono tutti più tecnicamente preparati insomma anche max hop ho visto l'altra sera tecnicamente è molto molto più preciso di un vangherman con cui ha giocato però vangherman è nevangherman perché oltre alla tecnica oltre alla precisione di queste cose qua bisogna mettereci che il talento uno come vangherman c'è un talento come in ogni cosa insomma uno può sicuramente se si mette lì tecnicamente si allena diventa forte poi c'è quello che ha quel talento nato per fare quella cosa lì che ha qualcosa in più come magari valentino rossi nella moto roberto basso nel calcio che il talento ti dà quel qualcosa in più no differenza degli altri perché magari quello è nato per fare quella cosa lì l'altro magari gli piace tanto magari non è portatissimo per questa cosa e uno lo fa magari anche molto bene ma anche nella chitarra io ho avuto tanti allievi e quello che ha portato si vede subito perché ha un cioè capisce le cose in maniera diversa poi magari uno studia tantissimo e ci arriva lo stesso ma con molta più fatica uno che invece a quel quel qualcosa in più perché magari è nato veramente per fare quella cosa lì diviene più semplice capisce più velocemente a ma non non è che uno non è bravo cioè ognuno nella vita capace ognuno è capace di fare una cosa diversa dall'altro tante volte magari qualcuno fa qualcosa che era meglio che non lo facesse cioè lo fa bene ma ma se fosse avesse fatto che ne so uno gioca a freccetta ma so giocava a freccetta magari si metteva a fare il pittore era il più grande pittore del mondo ha sbagliato magari strada ma magari hai contato lo stesso cioè adesso non voglio essere un discorso un po lungo ma uno se lena alla tecnica è tutto poi sia quel qualcosetta in più lo si percepisce insomma perché gioca più forte tutto lì come in tutti gli altri sport come in tutte le le cose della vita una chitarra come nella pittura insomma anche io disegno ma io ci metto per fare un ritratto non lo farò mai bene come certe persone che ho visto che sono brave ma lo faccio per il mio lo faccio per me disegnino mi mi rilascio quando faccio i ritratti ma non sono un fenomeno lo faccio per il mio puro divertimento è la mia pur cosa non sarebbe il mio mestiere non sono un grande scritto non potrei mai essere un grande scrittore perché per scrivere bene cioè io scrivo ma mi ci vuole un po nel senso che devo impegnarmi molto invece se devo fare un brano di musica per 60 strumenti è come non so da fare la pipì uguale normale quindi questo è il succo per questo ho detto che gervin price secondo me è uno che è un atleta che ha detto a questa la tecnica e questo cosi mi metto qua mi alleno divento un giocatore a differenza magari di quelli che sono nati nei pub hanno cominciato a tirare magari con qualche imperfezione ma col tempo diventato perfezione per loro saluto a tutti